Parola al Presidente Luciano D'Alfonso. Sarò rispettoso dei tempi, 5 minuti. Perché voglio consentire il migliore intervento possibile a chi parlerà dopo, dando luogo anche ad un versamento in atti del punto di vista dell'ordinamento regionale che per generosità dei cittadini io naturalmente qui mi sforzo di rappresentare. Io voglio dirla tutta. Quella che è la struttura del mio pensiero, che è un pensiero che si è messo in cammino da subito, ha conosciuto anche l'evoluzione della fertilità dell'onestà intellettuale. E per aiutarmi, rispetto a quello che voglio dire, sperando con la chiarezza che io desidero e che voi meritate, cito addirittura il testo di un libro che io vorrei regalare a tutti senza finire in una condizione di reato, che è l'inevitabile di Kevin Kelly, casa editrice e saggiatore, dove spiega perché a un certo punto si pone la categoria dell'inevitabile nella vita delle città. L'inevitabile, per il come lo descrive questo straordinario intellettuale, che è un futurologo, è uno studioso del futuro delle città, dei territori e dei programmi di vita delle persone in relazione alla tecnologia. Io se la dovessi volgarizzare direi che è l'accettare l'esodo che a un certo punto non riguarda solo le persone, ma anche le istituzioni. Ci dobbiamo mettere in una condizione di esodo, esodare da quello che era e trovare nuove forme. Io non ho mai avuto genuflessione nei confronti della categoria della demografia. Tant'è che la distinzione tra me e autorevoli, anche docenti presenti qui, persone dell'economia con più o meno successo, la distinzione tra me e quello che cercavo di dire, sforzandomi, e quello che hanno detto e lasciato scritto loro, io ho visto in capo a loro una maggiore scommessa circa il ruolo dell'ingrandimento demografico. Io invece ho cercato di tratteggiare la vera grandezza delle città che va meritata in relazione a nuove infrastrutture, a più infrastrutture, a più redi, a più flussi. Per fare accadere questo c'è bisogno di trovare una nuova classe dirigente che accetti la sfida dell'esodo. La riprova è esattamente... Non ce l'ho d'annunziano. D'annunzio quando lo richiamarono perché doveva rientrare e fare il numero, lui citò l'urima. Non dirò che quello che è stato fatto qualche giorno fa e soprattutto detto assomiglia alla categoria di D'annunzio quando un uscere gli disse rientri perché deve fare il numero. Ma francamente non c'entra nulla con quello che serve in questo momento, in questa fase, alla vita di riorganizzazione e istituzione delle città. Penso che lo diranno con una maestria inarrivabile sia vetritto che la amici. Qui si pone proprio la crisi della città in corrispondenza di una crisi che ha distrutto le antiche categorie dell'Ottocento. Spazio e tempo. La figlia del ministro emerito Severino che io non dovrei avere in simpatia per tutto quello che voi sapete è cittadina del mondo nel senso che non fa più quello che fa la mamma che il venerdì e il sabato va nei negozi a comprare ciò che le serve e si fa le passeggiate nei luoghi di dignità di queste città. Ma compra attraverso i grandi venditori che usano le reti della digitalizzazione dell'internet delle cose del commercio elettronico un'articolazione di Google che si chiama Alphabet mette in crisi la categoria dell'urbanistica e non lo dico per dare l'ennesimo fastidio a Stefano Civitarese secondo un certo racconto pescarese Alphabet sta ripensando il rapporto tra volumi e spazi attraverso il massimo utilizzo dei dati che consentono informazioni e dentro questo noi ci presentiamo con la storia del rapporto Pescara-Aquila mi ricordo una stagione vergognosa davvero alcolizzata quando dalle due parti si discuteva di dove dovesse andare l'ufficio regionale del lavoro e lì da allora era segretario della CGL c'era un rettore in merito diventato politico che sfidava Pescara nel tiro alla fune su dove dovesse andare l'ufficio regionale del lavoro oggi quell'ufficio ha il problema di essere portato sul tavolo di Lolli per la crisi del senso di quell'ufficio e noi vogliamo riportare questo davanti ai bicchieri di vino serve allora un'altra idea di città che strumentalizzi incassi si nutra riesca a nutrirsi si fertilizzi di questa nuova coppia che va oltre la grandezza degli spazi l'utilizzo del tempo a Rotterdam il sindaco di Rotterdam si vanta non perché ha difeso la motorizzazione o l'economia dei caffè dei dipendenti della prefettura pure questo ho dovuto leggere su un giornale a Chieti un pezzo di classi di leggenda ha rivendicato come successo il fatto che ha difeso non so che che produce non so che come economia dei caffè degli impiegati pubblici il sindaco di Rotterdam si vanta perché dice io al posto ho portato l'internet delle cose allora se questo è perché io mi sono sentito precettato da che cosa premesso che ho disistima di alcuni quando si cimentano nella democrazia perché ho un'idea eritaria della democrazia questo è lo dico ad amici che anche a Petrito questa è la regione che ha dato i Natali a Panfilo Gentile che ha si affeggiato tutti quando tutti magari si accasciavano sull'idea della democratura quando pone lui l'obbligo che le classi dirigenti non possono essere quelli che ragionano dalla cinta in giù magari per avvicinarsi alla peluria delle pance ma la classe dirigente deve sapere cosa fare dove andare qual è la dritta il di più e il meglio allora non avendo cessione rispetto ad una certa idea diciamo delle ginnastiche delle espressioni rumorose ma non si può non valorizzare che moltitudini di decine e decine di migliaia di persone nel generale disinteresse abbiano fissato questa tratta questo dato non basta più l'attuale organizzazione istituzionale dovete evolvervi l'hanno fatto nella maniera del referendum usando lo strumento delle elezioni e qual era la maniera migliore una piazzata dentro quattro mura con 28 click qual era l'altra maniera più efficace di questa decine di migliaia di persone quelle persone che magari nel novecento sarebbero andate nei sedi partito che oggi non ci sono più con la capacità dell'accoglienza avrebbero seguito i dibattiti dei consigli comunali che non ci sono più capaci di attrarre hanno scelto il momento dell'urna e del voto cogliendo la coincidenza della nuova classe dirigente regionale e municipale partiamo da lì quanti sono Nicola? 116.000 i partecipanti nella distinzione di sì e no giusto? con maggioritario voto per il sì io non lo voglio mitizzare ma partiamo da questo dobbiamo dare nuova forma a queste città io vorrei per esempio che questa nuova città che deve essere procedimentalizzata e definita attraverso il percorso della legislazione regionale sia una città che sia capace di rispondere a questi interrogativi primo come possiamo configurare un di più di qualità di cittadinanza per chi sta dentro questa città nel medioevo le città si facevano riconoscere per il di più che loro offrivano e mettevano sul tavolo San Mignato era la città che meglio di tutte le altre faceva fare risparmio ci sono alcuni banchieri nel passato che li potrebbero aiutare a ricostruire questo passato o San Marino era la città dove di più le libertà si configuravano San Marino nasce così mica nasce diciamo per la vendita dei gadget era il luogo dove si trovava riparo e riparo nella libertà anche perché era impedito o cercato o ricercato e quella città trovava senso ed era irripetibile quella città era immaginabile desiderabile perché metteva sul tavolo quel di più che si trovava solo in quella città o Piombino era la città nella quale c'era il pacificatore eletto democraticamente voi immaginate Piombino era una città nella quale c'era un pacificatore nel 1960 esisteva il conciliatore delle finanze noi abbiamo San Giovanni da Capistrano che era pacificatore in Abruzzo nel 1550 più o meno ha avuto il pacificatore che veniva eletto non mandato al Vaticano e Piombino era cercata come città perché era accettata sul campo questo di più questa città nuova che noi facciamo può accettare la sfida di essere qualcosa in più delle altre specializzandosi nel tempo della digitalizzazione che dice Kevin Kelly nel tempo della sfida che lancia il sindaco di Rotterdam noi siamo la città dell'economia dell'acqua con internet delle cose nel tempo delle zone economiche speciali io mi ricordo un ardizi dalla capigliatura corvina e pienamente nera che voleva per tutti i cittadini che entravano a pescare il diritto di arrivare davanti alla porta del commercio quella era una maniera di interpretare il rapporto tra pescare e l'altro da sé e di fare anche economia ti porto fino all'ultimo minuto all'ultimo centimetro e ti faccio essere consumatore acquirente ovviamente deve essere ripensata quella prossimità lì quella frontalità di ingresso dentro alla mattonella ultima dove c'è il prodotto che viene cercato e che magari veniva offerto da galdo si chiamava galdo qual è la prossimità nuova che può offrire la nuova città a chi vuole venire qui lancio la sfida mia figlia benedetta a Chicago ha detto papà ma le università funzionano anche di notte è immaginabile che Pescara si faccia riconoscere non per il bicchiere di vino durante le riunioni di alcune commissioni ma si faccia riconoscere perché ci sono università che funzionano anche di notte e perché magari si vanno 200 giorni l'anno senza il rumore e l'ammaloramento dell'atmosfera e di quello che noi rispidiamo come ci diceva Tor Lontano e perché abbiamo una capacità di miglioramento dell'offerta pubblica del trasporto collettivo e sapendo che di qui a 20 anni noi avremo i droni che faranno i trasporti e immaginare un aeroporto anche su misura dei droni come dice l'amministratore delegato di poste del Fante è questa la sfida o no amici in politica è entrata la categoria della vergogna io ho avuto la fortuna di avere un professore all'università di Teramo che mi ha insegnato che le parole sono delle divinità io ho voluto esaurire il significato di vergogna la vergogna evoca un sentimento diciamo di rimpicciolimento dentro di sé se fosse una lumaca e la lumaca si vergogna se la lumaca torna dentro di sé io mi sono vergognato l'altro giorno mi chiedevano alcuni contrattualizzati dalla carta stampata o delle televisioni che loro hanno il loro da fare devono fare il prodotto un po' come i parempieri hai da dire che io volevo usare il lanciafianco però mi sono affidato a questo sentimento nobilissimo della vergogna nel senso che sono tornato dentro di me ho detto ma quanto è grande quello che c'è da metterci in più per far capire quello che serve ho parlato in dialetto con alcuni consiglieri perché poi come si dice il dialetto alla fine è la chiave di tutte le cose perché ti dice esattamente cosa viene cercato e un consigliere comunale molto onesto mi ha detto io voglio rimanere in vita e noi dovremmo trovare una via di uscita che consenta il mantenimento in vita magari cambiando pelle si chiameranno consultori mi è stato spiegato che uno se non rimane in vita torna non so dove a fare il suo lavoro io penso che la politica venga fatta nel secolo come dice la base è il secolo il tempo che corre e va situata la politica se l'esigenza per abbassare il tasso di antipatia è questa affrontiamola affrontiamola senza nessun tipo di atteggiamento tecnicalissimo affrontiamola però non diamo dignità di notizia non facciamo in modo che sia questa l'attrazione di questo ci si occupa in una stanza chiusa senza finestre si affronta una volta tutti gli argomenti di questo tipo di letteratura per me è una questione anche colui il quale vuole difendere ciò che ha guadagnato battagliando anche quella che si chiamava la guarindigia difendiamo anche questo perché per me non è questo il dramma in affrontabile però non possiamo non cogliere la magia di questa straordinaria effervescenza una magia che non è vero che intervenendo regalerà tutti per esempio come quando ci fu l'intervento dell'Italia in guerra nel 1915-18 tutti si aspettavano chi non avesse la sposa la trovava chi aveva i debiti li perdeva chi aveva i conflitti li superava non è che questa vicenda donerà soddisfazioni a tutti magicamente si tratta di lavorarci di metterci energia vitale contenuti culturali dov'è che io attacco l'iniziativa all'inizio venne raffigurata come una specie di olio magico dove i fiumi di denaro arrivavano a flotte ragazzi non si può fare questo noi dobbiamo dire la cosa vera non ci sono lingotti d'oro che pervengono sui tavoli di questo luogo comune ma si intercetta un'energia straordinaria che ci riconfigura classe dirigenza io vorrei essere legittimato a candidare questa nuova pescara come la città della velocità e della qualità della velocità dei dati 5G e vorrei dialogare con l'amministratore del Fante Bassanini di Open Fiber per fare in modo che l'aeroporto militare chiuda perché non serve a nulla e diventi l'aeroporto di Google ma se faccio una cosa del genere senza questo tipo di campo elettromagnetico culturale mi si dice ne facciamo un'altra di una qualche somiglianza in un luogo dove prevale il bisogno risparmio il dibattito sulle mura sanitarie anche quella ha una quota di vergogna che prima o poi prima mazza ma la mazza come si dice ha detto un'opera ma scusate il chilometro del sito dove si impianti il cantiere a chi se ne frega l'importante è che si facciano quelle mura con quelle bravure con quell'organizzazione e con quella capacità di offrire e dovremmo fare davvero come si fa nella scelta del giudice naturale nei processi penali non si permettano di aprire bocca agli interessati non si permettano io anche questo voglio incassare nella nuova città uno spirito davvero ritrovato di progetti di pensiero di lunghezza completamente nuova dove ciascuno rivede con la luce giusta quando è che deve stare in silenzio perché ha il conflitto di interessi io questo ci vedo nella nuova pescara non ci vedo che i debiti scompaiono la facoltà di storia contemporanea scusate la facoltà di storia dell'università di Salerno non del Saletto di Salerno ha fatto uno studio molto interessante che è stato pubblicato da Rubettino sui debiti degli staterelli precedenti allo Stato Unitario quelle non sono scomparsi cioè io non aspetto nessun tipo di fantasmagorica disintegrazione quelli sono il punto di lavoro di Guido Dezio e dei suoi omologhi e del prefetto Verde che sta messo negli interni dovremmo allineare i linguaggi i contratti le consistenze i software ma come dice il bravissimo oggi era da sposare Luciano D'Amico si può fare si tratta di lavorarci meno esternalità meno calci alle ginocchia ma si può fare lo si è fatto e facendo quello nasce la classe dirigente facendo quella roba lì allineando quei linguaggi si aprono le vedute io sono contento e mi avvio davvero la conclusione di questo mio intervento alla pari a dicembre avremo Bassanini Delfante Cacciari Ravazzi e Mr. Google Italia a parlare di nuova città dicendo il mese in cui approviamo la legge io vorrei che gli amici di Confindustria ci aiutassero a organizzare la festa fare festa significa fare gioia ma significa anche chiudere fuori dalla porta coloro i quali non hanno capito il ritmo di questa vicenda io vorrei parlare con i miei avversari dicendo pacifichiamo perché sta facendo sta accadendo un fatto nuovo Togliatti davanti al fatto nuovo addirittura si tolse da sé e organizzò la pacificazione fu Togliatti Armando ministro della giustizia però abbiamo bisogno anche di una grande pacificazione che abbia la forza di ripartorire questa città quando è nata la città di Pescara del 1927 ci furono delle trattative Licio di Piase su questo è leggibile su questo ha ritrovato dei documenti che ci fanno sapere che per esempio la trattativa riguardò l'apertura di due punti di vendita dell'olio ai colli l'apertura di un punto di acqua che è la fontana che sta lì vicino alla Basilica e l'apertura di cinque di punti di luce ci fu una trattativa poi pare che ci sia stato anche un sindaco che si era giustato un po' di terra credo che si chiami Leopoldo Muzzi però su questo non mi pare che abbia agito la squadra mobile di allora può essere anche che venga riaperto un dossier questo fu il tema delle trattative ci fu una trattativa e la trattativa con Spoltore e Montesiano noi la dobbiamo fare quando il sindaco di Spoltore che per me rimane sempre ascoltabile dice e non è adesso una stilettata al damestimato Stefano Civitarese ma una infrastruttura sportiva la possiamo immaginare anche come elemento di conciliazione per questo tempo difficilissimo della partenza adesso non è quello magari perché non è che tutti gli sport si fanno con i piedi ci sono anche altre attività sportive e ci sono anche altri involucri che possono ospitare il tempo liberato alla persona però un'idea di collocazione di infrastrutture nei tanti altrove io non sono nato a Pescara non ho avuto la fortuna di sbucciarmi le ginocchia a Pescara io per esempio inviglio Carlo Masci che ha interpretato da certo punto di vista un certo spirito pescaresi per esempio quando capì il valore del tempo libero del fine settimana quell'incontro tra alcune attività economiche e il tempo liberato di alcune generazioni io se avessi avuto la fortuna di nascere a Pescara ma fu un fatto dell'utero di mia madre non è che ho deciso io mi sarei sbucciato le ginocchia mi sarei fatto il bagno al fiume Pescara sarei stato quel solito azzardatore che l'ho fatto al fiume Lavino all'Etonopel ma non mi ha dato la stessa consistenza culturale beh io mi sarei posto la domanda quanto Pescara cerca lo spazio liberato il vuoto urbano quanto cerca il verde quanto cerca la qualità del costruito quanto cerca per esempio un rapporto diverso tra scuola il tempo della mamma che lascia il bambino a scuola è incredibile quello che io ho visto a Pescara bambini che vengono lanciati perché non c'è lo spazio del saluto venditti in Bazzirente reimmaginare per esempio un ritrovamento di luoghi dove si realizza conciliativamente il genitore il bambino l'insegnante che viene salutato attraverso un ridisegno di tutto questo ecco io qui ci vedo un patto tra queste città dove si allarga si allunga si ingrandisce si esalta per l'apporto nuovo tra spazio e tempo che ho cercato di dirvi attraverso l'uso anche della tecnologia che è davvero una doppia evoluzione però ci dobbiamo mettere la classe dirigente della politica è bellissimo che nell'orario di soccorso sanitario alle 10 e mezza chi ha bisogno di soccorso sanitario comincia ad avere bisogno delle prime vicinanze fisiche noi alle 10 e mezza di sabato mattina abbiamo fatto una riunione senza nessuno spingimento per favore vieni perché se no faccio brutta figura è straordinario quanto questo sia nell'agenda di riflessione di molti cittadini liberi e autonomi di professionisti è davvero un tema sul quale costruire proprio una specie di stagione di democrazia ritrovata io mi fermo qui avrei altro da dire ma lo farò da cittadino dirigente di partito e ascolterò la dualità che c'è dentro di me io sono persona fisica e persona giuridica io come persona giuridica sarò un cinghiale perché deve accadere questa cosa e poi come persona fisica e politica mi impegnerò a non farla essere un inganno a non far nascere la periferizzazione ad evitare che ci sia il mito dei lingotti d'oro